Persino la gestione dello smaltimento dei rifiuti diventa 2.0 in un mondo sempre più digitalizzato e tecnologico. Per questo motivo è stata sviluppata e presentata quest'oggi una nuova app, l'app di IREN Ambiente, che servirà nella zona sud-est della Toscana a poter essere sempre e costantemente informati su quelle che sono le nuove necessità per appunto il conferimento corretto dei rifiuti per tutti i cittadini. Vediamo il servizio confezionato dal nostro Goffredo Rossi. Se Toscana presenta la nuova app IREN Ambiente, l'app gratuitamente scaricabile sui sistemi iOS e Android fornisce tutte le informazioni sui servizi ambientali dei 104 comuni della Toscana sud-est. L'app IREN Ambiente, per esempio, fornisce assistenza per differenziare correttamente i rifiuti, notifica gli utenti del porta a porta la frazione di rifiuto da conferire e consente di prenotare il ritiro degli ingombranti direttamente a domicilio. Oggi è un giorno importante, presentiamo una novità fondamentale per la comunicazione nei confronti dei cittadini, di tutti i comuni che stiamo servendo. Inizialmente inauguriamo l'app IREN Ambiente, attraverso la quale ogni cittadino può vedere in diretta tutto quello del servizio svolto sulla propria via dove lui abita e dove ha la residenza. È un'app molto moderna che rispetto alla nostra, avevamo prima, è un upgrade fondamentale. C'è anche la possibilità di scannerizzare i codici a barre che ci consentono e consentiranno poi di vedere dove deve essere buttato e gettato quel rifiuto. Quindi credo che sia un passo in avanti che possiamo fare grazie al socio industriale IREN Ambiente che in qualche modo ci accompagna nello sviluppo del nostro piano industriale anche in cose importanti come queste per la comunicazione. È una delle tante sinergie che siamo in grado di dare anche a questo territorio chiaramente in collaborazione con le peculiarità del territorio toscano perché mette a disposizione anche di quest'area un'app che è già oggi operativa su oltre 2 milioni di abitanti serviti al gruppo IREN. Quindi qua ampliamo e chiaramente abbiamo anche acquisito sensibilità del territorio che abbiamo portato all'interno di questa app e che serve sostanzialmente a semplificare le attività dei cittadini e a semplificare a volte anche il lavoro dell'azienda nel comunicare, nel dare le informazioni che riteniamo necessarie per il corretto utilizzo dei servizi.